La sicurezza sul lavoro è stata una conquista della nostra società sulla strada della tutela dei lavoratori, insomma un patrimonio. È il tema di grande attualità sul quale intervengono oggi i nostri opinionisti di Assoapi, l'associazione sindacale che tutela e dà servizi alle piccole piccolissime imprese in tutta Italia e che ha una sua rappresentanza anche in provincia di Salerno. Con noi Pietro Vivone, presidente di Assoapi Salerno, dunque occorre dire che la sicurezza sul lavoro non è ancora entrata a pieno titolo nella cultura generale delle imprese, molte delle quali, in specie le più piccole, guardano alla sicurezza come ad un costo e non come ad un investimento. Eppure la sicurezza è fondamentale non solo per le imprese, ma anche per i lavoratori e per gli stessi clienti ed anche per le piccole ditte che non hanno dipendenti ma hanno i soci. E poi è vero che i costi per la formazione nella sicurezza possono essere alti, ma si può conseguirla, questa formazione, anche a costo zero come sentiremo tra un attimo.